Lì dove c'è proprio una delle neoentrate Novak, Andressa al limite, il pallone di ritorno messo dentro per Ove che era andata a cercare Gionna, poi Giuliano! La prodezza di Manuela Giuliano che non fa nemmeno rimbalzare questo pallone in uscita dall'area e trova la coordinazione giusta per andare in porta, questo è 4-0 davvero per la Roma. Insomma, gran lavoro di Ove nella costruzione di questo gol, Filgens ha provato a svuotare l'area, anche Giane, poi Giuliano ha colpito...